Abbiamo fatto un'ottima partita contro la prima della classe e infatti deve essere un punto di partenza per noi perché sabato avremo un'altra battaglia quindi dobbiamo partire da questo punto conquistato con la Juve è un punto di partenza per me perché l'ultima volta che sono stato in campo è stato a Milano e sappiamo come è andato a finire e infatti sono contento che sono rientrato in questo modo e devo continuare così e mettere in difficoltà il mister e poi deciderà lui Sì, vale doppio perché ho subito un brutto infortunio e venivo da un anno un po' particolare abbastanza passato dei mesi brutti e come ho detto poco fa sono contento che sono rientrato in questo modo e se sono tornato così, anzi più forte di prima e soprattutto ai miei compagni e a tutta la società Sicuramente giocare a tre c'è più equilibrio dietro però io sono stato abituato sia a tre, due anni fa con Pea tre anni fa ho giocato quasi un anno intero a tre però mi trovo anche bene a quattro, quello di Francesco si è visto quindi poi sarà il mister a scegliere Sarà più importante di quella con la Juve perché adesso abbiamo un trittico di partite importantissime e dobbiamo andare sabato a Parma a fare punti portare punti a casa perché è importante per il nostro cammino per rimuovere la classifica e lasciare soprattutto la parte bassa della classifica Diciamo che il Parma per adesso è in difficoltà quindi noi dobbiamo approfittare della difficoltà appunto del Parma cercare di mettere in campo tutta la forza che abbiamo noi e portare a casa i punti fondamentali